Francesco Menna, sono stati stanziati dei soldi per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale in città, circa 100.000 euro? Sì, riguardano alcune questioni di criticità di alcuni quartieri che sono pubblici, oramai pubblicati in delibera e sono noti come via Salavuca, come la Lebba, una parte di via Spataro, insomma zone che riscontravano diverse criticità, ulteriori interventi saranno fatti di più a qualche mese, settimana rispetto a quelle che sono le possibilità dell'ente e i finanziamenti possibili. Partiranno anche i lavori relativi ai marciapiedi, tutte autorizzazioni che abbiamo avuto dalla Cassa Depositi e Prestiti per impegnarci a dare servizi alla città, nel frattempo si stanno prodigando anche le imprese per il ripristino degli asfalti per la fibra ottica che sta completando il suo percorso, a breve attendiamo anche l'estensione della fibra ottica in altre aree, si stanno completando anche le opere di ripristino per quanto riguarda i quattro interventi importanti sul sistema idrico di rifacimento della città. Qualche problema l'abbiamo riscontrato rispetto a qualche ditta ma mi auguro in questi giorni superarlo.